Abbiamo lavorato costantemente in questi mesi. Un attacco duro, deciso e preciso, quello del primo cittadino paganese Salvatore Bottone al neopresidente della provincia di Salerno, Strianese, per cercare di venire a capo di un'altra difficile emergenza dopo quella di fine maggio e che ha visto i 158 comuni della provincia di Salerno in ginocchio per i noti problemi dello stir e del termovalorizzatore di Acerra. Ma bisogna prevenire e lavorare in anticipo su queste cose, è quello che io chiedo, ho chiesto ai vertici provinciali e regionali per poterci supportare anche a noi come comuni ed evitare che appunto questo periodo possa essere un periodo di disagio enorme per i nostri comuni. Allora come provincia di Salerno dobbiamo dare una svolta, dobbiamo adesso anche con il presidente Strianese dobbiamo intervenire in maniera massiva, con il potere che ha, deve subito trovare soluzioni immediate, senza perdere ulteriore tempo per evitare che città come le nostre possano vivere le festività natalizie e immerse nei rifiuti. Sarà un Natale particolarmente salata quella del 2018, una spiacevole sorpresa di Natale alla quale i contribuenti salernitani difficilmente potranno sfuggire. Oggetto del contendere la delibera da parte di Ecoambiente, la società che gestisce lo stir di aumentare la tariffa da 149 euro a tonnellata a 196 euro a tonnellata, chiedendo retroattività ai comuni dal 1 gennaio 2018, che significherebbe una cifra di circa 10 euro a componente di ogni singolo nucleo familiare. Una tariffa che ancora andrà a gravare sulle tasche dei cittadini salernitani, già martoriati da un servizio non proprio efficiente. Ritorno all'incubo, certamente. Purtroppo abbiamo lavorato costantemente in questi mesi, grazie all'ottimo lavoro messo in campo dalla Pagani Ambienti, quindi dall'ASPA, però abbiamo questo problema che è venuto fuori non all'improvviso, noi stavamo cercando di risolverlo attraverso conferimenti presso altre piattaforme che abbiamo evitato appunto il cumulo dei rifiuti, situazione diversa che abbiamo potuto verificare tangibilmente tutti quanti noi per i comuni vicinoli dell'Agronoceno Sarnese, dove i rifiuti veramente erano accatastate oramai da settimane e settimane. Noi stavamo superando questa fase, però purtroppo adesso lo stir ha bloccato totalmente. Questo è assurdo. Ci pervengono notizie di aumenti, anche retroattivi, del secco indifferenziato che dovremmo far pagare ai cittadini retroattivamente un malfunzionamento dello stir, così come del termovalorizzatore. Questa è una cosa che non ci è consentita, non possiamo subire tutto ciò.